Sì, lo posso confermare, se Corioni non sconferma, io posso dire per come si sono messe le cose e per come stiamo lavorando, per noi ci procede. Poi ci sono i tempi burocratici, chiaramente, per i passaggi. Gianpietro Manenti, dopo alcuni giorni di eclisse mediatica, non solo, dunque, non ha arretrato di un passo, ma anzi ha rilanciato. L'aspirante acquirente del Brescia si sente già acquirente, punto e basta. Lo ha ribadito e rimarcato in tutti i modi nel corso di un lungo intervento telefonico all'interno di parole di calcio su Teletutto. Manenti ha zettito tutti, mostrandosi più sereno che mai e sottolineando di avere l'appoggio da parte delle banche. L'imprenditore ha anche fissato la data entro la quale il negoziato si deve chiudere, il 15 gennaio. Stiamo vedendo tutta la parte documentale e poi faremo l'incontro con le banche. Sì, noi ci andiamo in 15 come termine. Molti i dubbi e le perplessità legati alla sua figura, soprattutto dopo la cattiva pubblicità ricevuta per il fallimento dell'operazione di acquisizione della cartiera pigna. Manenti, anche in questo caso, si difende. Io ritengo che non ci siano i predisposti perché vada male. Ho visto che mi è stata attribuita più volte la non chiusura alla cosa, ma sono cose non reali. Io ritengo che questa è una trattativa differente da quella precedente che avete citato più volte. perché anche visto che è stato scritto che è andata, no. Allora, pigna è stato depositato il denaro presso un notaio di Milano. I proprietari hanno deciso di non andarlo a richiare, quindi non è una cosa che non abbiamo fatto. Noi eravamo convinti. La banca di riferimento del Brescia, Ubi, nulla trappela ufficialmente, ma filtra che nei confronti di manenti non ci sono pregiudiziali di sorta. Anche la banca, però, come tutti, corione in primis, aspetta segnali concreti nel giro di una manciata di giorni.